Ciao ragazzi, buonasera a tutti, bentornati al consueto appuntamento di Chiacchiere da Barber, la rubrica Taglio Corto, consueto solo per noi chiaramente, e lo diventerà un giorno anche per tutti quanti. Allora, questa sera abbiamo un altro ospite, come avete visto, come vedrete, vi porteremo sempre gente molto frizzantina, gente, come possiamo dire Frank? Non dire niente che è meglio. Forse è meglio. Abbiamo Franco Terlizzi, lo presentiamo. Franco, è un piacere averti qua. Grazie, gentilissimi. Franco, è tante cose in realtà nella vita, è stato Franco, è un uomo di quanti anni Franco? Si può dire? L'età? Sì. No, 61. Partiamo subito con una vena molto ironica. Franco è una persona molto, molto loquace, molto piacevole anche da ascoltare, vedrete e ascolterete la sua storia. Franco è stato un grande pugile italiano, ha combattuto per tanti anni come professionista. Quanti incontri hai fatto, Franco? Da dilettando ho fatto sui 22-23, totale, fra professionisti e dilettando, ho fatto sui 115-106, ma che più e meno. Tante le botte le prendevo io, mica te. Certo, fratello, ha fatto sicuramente tantissimi incontri. Allora, Franci, io partirei... Questi sono stati nei verci del classifico mondiale, tipo, non so, sono stati in classifico europeo, fa due volte per titolo d'Italia, però parliamo della box degli anni Ottanta, quando c'era ancora il pugilato. Non è che non c'è adesso, però io preferisco... Sei un nostalgico. Esatto, preferisco il vecchio stato, diciamo. Era assolutamente un modo di praticare questo sport diverso. Dove c'era un campione mondiale uno solo, dove c'era di categoria, ovviamente, dove c'era un titolo italiano, dove c'era un titolo europeo, insomma. Sono cambiate tante cose, ahimè, a me piaceva negli anni Ottanta, dove c'era il pugilato. Adesso, sì, hanno aggiunto un sacco di regole che Meli che è uno che fa danza classica è più il pugilato, non so più cosa dire. Però, se a loro va bene così, a me non mi interessa. Io sono sempre del vecchio stampo. Vecchio stampo. Allora, Franci, io partirei come facciamo con tutti i nostri... Dove vai? Devo vedere se riesco a prendermi un bai di giorni. Partiremo, come facciamo tutti i nostri ospiti, dagli antipoti, fratella. E ceppo, come si dice. Quindi, Franco, senti un po' come nasce la pastione per il pugilato. Il pugilato? Te lo dico soltanto. A me il pugilato non piaceva. Quando ero ragazzino, stiamo parlando dei tempi di Nino Benvenuti, tanti po' Arcari, Franco Udella, i grandi campioni che sono stati in Italia. Poi che è successo? Una sera, casualmente, con dei miei amici, stavano andando, all'epoca, negli anni 70, cioè andava di modo a fare i karate con le cose lì, in palestra, c'erano tante... ai tempi di Bruce Lee. I figli di Bruce Lee. Esatto. Negli anni 70 è venuto il boom di quella storia lì. Una sera sono andato a vedere una seduta di allenamento di questi ragazzi qua, che erano miei amici. Sono rimasto... Colpito. No, non mi avevano ancora colpito. Non mi avevano ancora colpito. Top, però. Affascinato, diciamo. Vedi, io raffino un po' la... Si vede. Si vede che è un tifoso juventino. Allora, a uno di questi ragazzi qua, che si chiamava Nicole, che era un mio amico, ho detto io, quasi quasi, adesso vengo anche io a fare questo spunto. Ma tu, per la stazza che hai, per te sarebbe bene il pugilato. Casualmente, in quel periodo si apre una palestra di box al mio paese, che si chiamava la famosa palestra Lassivo Box di Bitond. L'allenatore era un grande... Poi è stato un grande pugile negli anni 60, Vito delle Forie. E sono andato in questa palestra qui. E qui è iniziato... Non è iniziata la mia posizione. Sono andato lì perché, quando sei ragazzino, il pugilato affascinava anche dall'ora, capito? Andai a una palestra di box, ti affascinava, facevi la box. Quando la... per fare il figo, venivi, cosa fa? Eh, sto andando a fare il pugilato, sai come queste cose qui. Sai, quando sei pischiello, ragazzino, più che altro è un po' la mondatura, come se è un po'... Vanitoso, diciamo, no? Italiano, non so meglio io che te. Dovrebbe essere al contrario. Io ti ho portato a posto per questo. Esatto. E allora, andrei in questa palestra qui, mi iscrissi e continuai a iniziare a fare la box. E rimassi colpito, affascinato. E, so, dal tal punto che dopo tre mesi che mi allenavo, non dico duramente, l'avevo preso come sport, soprattutto come divertimento, affascinava. Ma non che volevo far l'agonismo, capito? Quindi, venendo a questo discorso, tu nasci in un paese della Puglia, giusto? Bitondo, il mio paese. Il tuo paese natale. Natale è ancora presto. Natale, ci siamo quasi, però. Io ti voglio chiedere una cosa, proprio per farti ricordare questi momenti. Sei curioso o lo fai perché... No, no, sono curioso, sono curioso. Volevo sapere, visto che tu, quanti anni avevi quando hai iniziato? Ti ho detto di darmi del tuo? Lei quanti anni aveva quando hai cominciato? No, preferisco che mi dà del tuo, vai. Ok. Quanti anni avevi quando hai cominciato? Ma avevo 14-15 anni. E quindi ti chiedo, i tuoi genitori come l'hanno presa? Il fatto che affrontassi uno sport, tra virgolette, è violento. Ma non hanno battuto i cigli, magari mia madre, mio padre non se ne fregava di tutto a me. Non mi chiedevo. Mio padre, anche lui, vecchio stampo, che lui era un po', come diciamo, quando era giovane anche lui era un mezzo guappino, come si dice, non è che era un prepotente, quelle cose lì, no, però guappino, sai, si atteggiava anche lui, non era uno che si tirava indietro se c'era da fare che... ahimè, a me quelle cose lì non piace, però non ero che si tirava indietro. Quando ha saputo che io andavo a fare la box, a lui è affascinato un po'. Ah, ok, era quasi contento. Era contento, sì, era contento. E da lì come sei passato? E io poi ho detto, sei diventato un campione? E lui ogni tanto si divertiva, che non rideva mai. Ok. Come me. Vai. No, e adesso io vorrei capire come sei passato allo step del farlo diventare uno sport. Il primo incontro che a mano proposte combattere nel cinema al mio paese, l'ho trovata affascinante, troppo bello, poi mi sentivo un personaggio al mio paese. Mi sono visto... Ah, combattuto nel cinema del paese? Sì, si chiamava il cinema tra etiche, non c'è più. Ho combattuto nel cinema del paese, ce ne avevamo quattro, uno di quello bello. E mi affascinavo, mi sono visto la foto sul manifesto, inizio, negli anni settanta era una cosa carina, vedevo la gente in tv, allora, sai, eri affascinato, io mi sono visto sul manifesto, così è stata una cosa carina. Ho combattuto e quella sera lì ho perso. Ok. Ho preso una franatica di cazzotta, e lì è iniziato la mia sfida con questo sport. Ho detto, ah sì, adesso lo faccio più serio, perché quella sera lì avevo perso per uno, mi sono rotto l'arcata sopraccigliare, perché non stavo perdendo, stavo andando bene. E quella volta lì che mi sono rotto l'arcata sopraccigliare, ho detto, ma guardate, cosa mi è successo? Allora lì ho pensato, non dico farlo seriamente, però, di cominciare a farlo agonisticamente, in quel momento al primo incontro? E che cazzo l'ho detto prima, avevo 14-15 anni, subito cominciato, dopo tre mesi cos'è che cambiamo? Sempre 14-15 anni. stavamo che eravamo passati chissà quanto. No, tre mesi. Ok, quindi questo, questo è un lato del, anche un lato del tuo carattere, no? Tu in quel momento, invece di scoraggiarti dalla sconfitta, l'hai... Quello fa parte del mio carattere, vado... Cerchi di andare, di superare lo stato? Se una cosa, una cosa non riesco a fare, cerco di fare di tutto per farla, sì. Che è un po' una prerogativa dei puggi, di essere sempre pronti alla sfida, ad affrontare nuovi... Soprattutto, almeno quei anni lì, sì, dovevi essere sempre, dovevi sempre allenare, adesso, non è che a mater, io non lo so adesso, con tutta sincerità, di essere un piano, non mi piace, il modo di boxare adesso, non mi piace. C'è qualcuno bravo, che è bello vedere, però, a quei tempi lì, o quando sono nato io come Puglio, c'erano i grandi campioni, in Italia soprattutto, agli olimpiadi pure, quando andavamo agli olimpiadi, facevano la nostra bella figura, non ti dimentichiamo, che negli anni 80, ci siamo portati a casa, cinque medaglie, uno in oro, due di bronze, due di, due di d'argento, e due di bronze, quella volta lì, hanno vinto, Maurizio Stechman, la medaglia di bronze, la, gli olimpiadi, la medaglia d'oro, uno l'ha vinto, Francesco Damiani, medaglia, d'argento, Gondro Bix, l'ha fatta, e l'altro, Todisco, che poi, è venuto a mancare, per un incidente, e le due medaglie di bronze, è stata una di Luciano Bruno, e l'altra, forse, di Angelo Musone, forse di Angelo Musone, a quando la gente guarderà, se ha un memoria, un po' più, erano quelle 5 mila, e poi, avevamo parecchi, il campione mondiale, ti ripeto a dire, non c'erano tante sigle, come adesso, adesso, uno si alza la mattina, e fa, voglio fare questa sigla, stasera tu fai il mondiale, invece no, all'epoca, tante federazioni diverse, che non si capisce niente, all'epoca c'era un mondiale, e ci avevamo in Italia, parecchi mondiali, da Mattioli, a Fran Gudella, a Nino Benvenuti, tanti puggi, che sono forse, che sono rimasti, nella storia del pugilato, adesso invece, che è rimasto, se quelli mondiali di adesso, non se li taggano, no, no, la Borgalletà, non se li taggano, Camarelli aveva fatto bene, qualche anno fa, Camarelli, aveva fatto bene, le Olimpiadi, qualche anno fa, Camarelli, sì, era di Camarelli, il mondiale, campione, campione olimbiologico, dei pessimassi, sì, ci ricordiamo Fragomeni, noi che siamo un po' più giovani, abbiamo ricordi di questi, di questi ragazzi, come, Fragomeni, questi uomini, sì, Fragomeni, il nazionale, fece bene, no, che fece bene, persa il primo incontro, manco il puto, che fece bene, vabbè, lasciamo stare il cazzo Fragomeni, che sentiamo un velo fettoso, che noi c'ho, beh, no, non mi interessa, ma chi mi ricordo, abbia fatto bene, era Clemente Russo, Clemente Russo, sì, medaglia d'argento, sì, ecco, questa curiosità, voglio chiederti come la pensi, è proprio basata sul fatto, che questi ragazzi, che vanno a fare le olimpiadi, sono dei dilettanti, sono riconosciuti come dilettanti, nella categoria, giusto? e soprattutto, fanno parte delle forze dell'oro, professionismo, dilettantismo, sono così, cioè, uno va a fare le olimpiadi, la gente è ignorante, tra virgolette a casa, che non sa, pensa, questo è un professionista, invece è rinvita. Ci sono due staffe diverse, quando sei dilettante, il massimo è arrivare a l'olimpiadi, dilettante, quando sei professionista, il massimo è arrivare a fare il titolo mondiale, ok, allora da dilettante, ci sono tanti titoli, come da professionista, c'è una scalata da fare, almeno ai tempi in via, c'era da fare la scalata, che si partiva da novici, i primi pugni, poi si partiva da dilettante, terza serie, seconda e prima serie, si partiva a fare gli italiani, se poi piacevi la nazionale, andavi a nazionale, c'erano da fare gli europei, c'erano i mondiali, e il massimo, il top, ero gli olimpiadi, bisognava vedere la tua portata come è, se tu eri bravo. Certo, però era una scelta rimanere dilettante, perché potevi andare alle olimpiadi, da professionista, no? Se il tecnico della nazionale, vedeva che il pugio prometteva bene, faceva di tutto, per farlo stare dilettante, per portarlo ai vertici, per vingere dei torneri importanti, che ripeto a dire, erano gli europei, i mondiali, c'era il mediterraneo, c'erano tanti tritti, sì, probabilmente è un problema di terminologia, perché comunque uno sente dilettante, e pensa al principiante, invece non era una divisione. Eh no, sto cavolo, perché da dilettante, quando uno vinge gli olimpiadi, c'ha già un futuro nei proiezionisti, capisano? Non dico come, ma, cioè, non dico come, facendo la sua, nei tempi sempre miei, facendo la sua scolata, arrivando al mondiale, e non cannavano, arrivavano e diventavano anche il campione mondiale, o di che erano molto bravi, capito? Certo. Le tue vittorie, Franco, raccontaci un po', i tuoi ricordi più belli, i tuoi match più belli, le tue vittorie che hai più a cuore, che ti sono rimaste... Beh, una vittoria che mi sta più a cuore è stato quando ho incontrato un inglese, che si chiamava Eli Howard, e fu, mi sembra che combassi a Pessaro, mi sembra, quei posti lì, Eli Howard si chiamava, ed erano l'inglese. E io avevo appena fatto 4-5 incontrati da professionista, ero dubbito un professionista, aspiravo per fare il titolo italiano, per arrivare a fare il titolo italiano devi farla scalata. La terza serie, professionista terza serie, dalle sei riprese, seconda serie, dalle otte riprese, otto, dieci riprese, fin da arrivare a prima serie, e per arrivare al famoso titolo italiano. E quello è stato uno dei incontri che quando l'organizzatore, famoso organizzatore che non c'è più ormai, si chiamava Spagnoli, che non organizzava, il mio manager all'epoca era Gigi De Molinari, che purtroppo non c'è più, eh, se non c'è cosa devo fare? Eh, l'età è quella che è un tempo avanzo. E allora quando mi propostero questi incontri, perché prima di combattere, cioè prima ti propongono, di guardi, c'è da fare il tal giorno, la visione almeno messe prima, che in molti ti fanno fare un'adeguata preparazione, la visione di guardi, c'è da incontrare questo pugile qua. Ovviamente la tua curiosità qual è? Chi è? Chi non è? Come è fatto? Che, insomma, vuoi sapere le caratteristiche di questo pugile? È forte? Non è forte? E mi disse, questo pugile qua, inglesi, ha tante vittorie, però potrebbe essere la tua portata, perché io ero un picchiatore, l'unica andavo sotto, ero un fighter, diciamo. Un fighter è un picchiatore. Potrebbe essere la tua portata, però se tu pensi di salire sul ring e vincere prima del limite con questo, e meglio tu lo scordi, perché uno tosta. Beh, come hai detto tu prima, quale è stata una mia sfida? Sono salito sul ring, ho vinto la terza ripresa. La terza ripresa l'hai buttato giù. Ah, poi a parte quello, poi c'è stato un altro, un americano, al paese della carta, ora non mi ricordo più come si chiama, mi ricordo che... Fabriano. Fabriano, bravo. Un americano. Anche lì mi disse, sempre spagnolo, non salire su, questo è uno bravo, c'ha tanti ingordi, non c'ha tante vittorie, tanti ingordi, però ci ha battuto anche dei buoni pugili. Dice, non salire su lì per vincere prima del limite, che questo qui fai cilec, rischi che vai tu a tappi. Anche lì ho vinto prima del limite. Ormai era una sfida tra te spagnolo, lo avevo detto che c'era, e tu lo buttavi giù apposta. È arrivato a questo punto che eri diventato scaramatico, io lo chiedevo, cosa faccio con questo? Perdi, e vingevo. E invece il tuo match più complicato te lo ricordi? Il mio match più complicato è stato, no, uno dei, è stato quando ho fatto il titolo d'Italia contro Gigi Claudiano, un grande puggi, che è uno di quelli che ha fatto gli olimpiadi, anche lui era fortissimo, mi hanno proposto, io avevo già fatto il primo titolo italiano contro Antonio Manfredini, dove ho perso i punti, però non meritavo di perdere, meritavo di vincere. Subito dopo, il manager riscattandosi, non il mio manager, l'organizzatore, sempre di quella riunione lì, riscattandosi, mi ha detto, ti ripropongo il titolo italiano, contro Gigi Claudiano, che era fortissimo, e quello ho visto, per me è stato un match complicato, perché, sapevo di incontrare un avversario, difficile, forte, soprattutto, e, non dico che sono salito sul ring al 100%, ma al 75%, però, io sono sempre stato uno di quelli che non si è mai tirato indietro, te l'ho detto, era un fighter, uno che andava a soluzione, uno vinceva con me, perché se lo doveva meritare, altrimenti, zero. Non ricordava ben niente. E quello è stato uno dei match miei, un po' più complicati. Che alla fine hai? Perso. Perfetto. Allora, Franco, dopo... E ho perso, vuoi sapere come ho perso? Sì, è certo. Alla terza ripresa, è stata una sfiga, perché non stavo andando male, anche se era complicato come match, e non ero al pieno e forte della fonte, perché se vi ricordate, quell'anno lì, fu nel 91, a marzo del 91, scoppiò la guerra, la guerra, quella del Golfo. Ed è stato un po'... Cioè, mi sono sentito un po', non so, è stato un po' dramatizzante. Cioè, ti ha destabilizzato un po'... Esatto, un po', che sai, succedendo quelle cose lì, ti creò dei problemi a livello mentale. Beh, adesso, quando è successa la storia anche dei primi attacchi della Russia con l'Ucraina, io, obiettivamente, insieme a tante persone, c'è un po' destabilizzato. Sì, la guerra che si può avvicinare al tuo paese... Invece, riguardando invece la domanda di prima, qual era che stavi facendo? No, ti ho chiesto, quando, tra virgolette, hai deciso di mettere da parte la tua carriera da pugile, cioè, quando hai capito che era finito il tempo di combattere, diciamo, da professionista? quando ho capito, nel 93, quando mi stavo preparando, allora, sono stato, il 91, ho fatto il titolo italiano, quello lì, poi sono stato fermo un po', poi ho fatto un altro incontro, in mondo visione, c'era un mondial 2 americano, Mackenzie, se ne cita, mi ricordo in Roma, che fu a dicembre, forse del 92, 93, non mi ricordo, no, fu dicembre del 92, fece quell'incontro lì, e allora, il mio problema più grosso era il peso, facevo fatica a fare il peso, non c'era io, e allora, all'epoca, i massimi leggeri, no, come adesso, all'epoca, il massimo leggeri, il limite del peso era 86 kg, e io facevo fatica, adesso è arrivato, l'hanno alzato, l'hanno alzato, sì, hanno aspettato che mi ritiravo io, per alzarlo, l'hanno alzato, l'hanno alzato, l'hanno alzato, l'hanno alzato, l'hanno alzato, l'hanno alzato, e allora facevo fatica a fare, quando sono andato a fare questo match qui, che mi hanno proposto di fare un match, oltretutto, l'hanno proposto molto tardi, che io non mi sentivo di fare, non me la sentivo di fare, però, quando ho saputo che l'organizzatore, aveva accettato di fare questi incontri, perché c'era anche la tua figura dentro, l'ho accettata, e lì ho combattuto a 95, 96 kg, ero fuori proprio, ero fuori, però ho vinto, ho vinto con uno che pensava, l'ho battuta ai punti, poi subito dopo, subito dopo quello, vanno proposti in agosto, di fare un match, ho fatto fatica, fatica, vanno proposti, in Dandio mi allenavo, mi allenavo, mi allenavo, un giorno che è successo, mi chiamano un procuratore, c'era un ragazzo, che si chiamava Castelli, che era un buon fuccio, aveva fatto io l'invito, era bravo, bravino, mi chiamano, mi fa, e lì, sai, siccome c'è Castelli, che è stato professionista, deve debutare, che ti andrebbe di fare da sparring a Castelli, mi ha detto, sì, ma guarda, per il momento, adesso abbiamo bisogno di noi, se ci fa la cortesia, non veniamo alla Doria, facciamo lo sparring, quando sarà che avrai bisogno tu, Castelli sarà a disposizione, e fa vorrei che si facevano a Gioci, una volta è venuto in questo Castelli, abbiamo fatto i guanti in palestra, non ci siamo risparmiati, da tal punto ci siamo ammazzati di botte, questo è un debutante, io ero professionista, avevo già fatto, e ci siamo, va bene che era stato bravino, da dilettante, campione italiana, o l'invita, dei Sessini, ci siamo ammazzati di botte, a tal punto lì, mi sono scorciato la scatriciopera, è già stato lì un segnale per me, ha detto, guarda, mi sa che io sto arrivando, alla conclusione, alla conclusione, cosa è successo, però c'era il mio manager, Eric disse, guarda, abbiamo un bel match da fare, a Urbino, in Umbria? No, è nelle Marche, sì, sei bravo in gioco, è geografia, sì, nelle Marche. Finita, diciamo, questa tua carriera, comunque, nel tuo, è stata comunque, una bella scalata, hai fatto, hai fatto delle belle vittorie, è stata una carriera italiana, riconosciuta, che comunque, tanti atleti italiani, riconoscono la tua box, come le grandi carriere, di qualsiasi sportivo, arrivano a un certo punto, dove, è mo' che faccio? È mo' che faccio? È mo' che faccio? Mi sono praticamente, ritirato, col pugilato, ormai, quello che avevo fatto, avevo fatto, ho fatto una, come dirti, ho fatto una brillante carriera, non rimpiango niente, per forse, rimpiango, rimpiango di non aver dato, forse il massimo, dovevo dare di più, ma la mia, non sfortuna, è stata la mia fortuna, però, in un certo senso, a livello sportivo, è stata sfortuna, ho conosciuto, all'epoca era la mia ragazza, che oggi è mia moglie, e sono diventato padre, subito, nell'86, e allora, io avevo una certa responsabilità, che era quella, all'epoca, il pugilato, non è che ti faceva vivere, sì, non si guadagnavano le scorse cifre, al mio livello, quando ho fatto il titolo di anni, ho guadagnato delle belle cifre, però, avevo, la mia esigenza è che dovevo lavorare, perché all'epoca avevo mio figlio, avevo la responsabilità di essere un marito, avevo mia moglie, avevo mio figlio, e sai, come tutti i padri, cerco di non fare magari niente al picco, e io all'epoca lavoravo di giorni, e i soldi, stando a Milano, lavorando da solo non bastavano, mi sono messo a lavorare di notte, di notte ho cominciato a fare, il butta fuori è una cosa brutta, facevo la sicurezza nei locali, il bodyguard è più elegante, no, il bodyguard non lo facevi, il bodyguard è quando ti prendi cura di una persona, personale dice, facevo la sicurezza in qualche locale di Milano, che non sto a dire il nome, l'Hollywood, va bene, e allora è lì, è iniziato l'altra parte della tua vita, esatto, la mia fase secondaria, che è stato, non riuscivo a tenere fede, di non far mancare niente, durante il giorno, lavorando durante il giorno, ho cominciato a lavorare anche di notte, e allora, i equilibri, diciamo, economici, sono un po' sistemati, lavorando di notte, di giorni, e sono stato lontano, un anno e mezzo, un anno e mezzo, quasi un anno e mezzo, quasi due anni dalla palestra, alla quale un giorno, viene un mio amico, che si era acquistato, la famosa palestra d'Orio, che ogni tanto ci andavo, non mi allenavo più, ci andavo, e quel periodo lì, la palestra d'Orio, stava cambiando proprietario, il vecchio proprietario, che si chiamava il signor D'Orio, mi so che veniva a mancare, allora, la presi in custodio, questo mio carissimo amico, che è un commercialista, e disse, lui cosa fece, prendi in custodia, cioè, riprendi, si assorbisce la palestra, la cobra, e disse, mi chiamò, e disse, che ne dici, se ti metti a dirige un po' tu, il traffico nella palestra, le assassine, so che sei molto bravo, poi, so che a livello di Pier Rai, sei molto bravo, porteresti un po' di gente, perché tu hai conosciuto tantissima gente, in quegli anni, hai lavorato di notte, lavorando di notte, conosci soprattutto i personaggi, conoscevo un sacco di gente, poi faceva figo, quando uno veniva, dicevo, Franco Terlizzi, ex pugile, faceva figo per loro, e allora, e ho avuto un sacco di amicizie, anche a livello, subretti, calciatori, tutta gente, nello spettacolo, tutti, tutti, e allora mi misse, quasi mi misse, e presse a cuore un po' questa storia qua, per scherzo, mi si a fare un corso serale, alla Doria, la Doria chiudeva alle otte, io disse, se a posto di chiudere le otte, la chiamiamo alle dieci, mi faccio l'ultimo corso, e inizio così, per scherzo, con due, tre, quattro persone, arrivare ad avere, dei scritti, solo serano nel mio corso, dei scritti sui 50, 50 scritti, 60 scritti, non avevamo più posto, e poi, dissi, guadagnavo la percentuale, guadagnavo abbastanza bene, e dissi, ma perché non ti fai i personal, c'è un grosso nome, nel mondo del pugilato, questi qui, e mi ha messo a fare qualche person, e a fare qualche persona, poi diventarono tanti person, anche nel mondo delle celebrità, ho allenato, buono, sto facendo di nuovo, però ho allenato un sacco di personaggi, molto famosi. C'era qualcuno bravo, portato per la box, che magari, tornando indietro con un'altra carriera, avrebbe potuto fare il pugile? Uno che è molto bravo, sono rimasto contente, che l'ho allenato in storia, è stato Paolo Maldino. Veramente? Era bravo, era bravo, era uno che comprendeva subito, l'altro che invece, è stato bravissimo, anche a diventare subito, è stato Stefano De Martino. Beh, quello si è visto, ha visto in parecchie foto con lui. Porca miseria, e Stefano, lui mi diceva che, faceva male, ma lui, quando ho iniziato con me, a fare la box, poi si sono facendo, siccome dove veniva lui, c'era una scuola di pugilati, che si chiama la famosa palestra di Zurlo, nel quartiere dove c'era, che mi sembra che lui era del quartiere spagnolo, mi sembra, e allora si allenava anche là, si allenava con me, perché lui era stato affascinato del pugilato, forse l'aveva fatto da ragazzino, poi aveva smesso, e si è messo a fare come, come si trovava bene, e è stata una buona, con chi ho fatto i cilè, che è stato con Angelo Carbone, mamma santo, quello era negato, poi ho allenato un sacco di ex giocatori, Bupo, poi si è venuto, anche quello lì, che non mi è molto simbatico, Bobo Vieri, un po' di genere, ho allenato un sacco di gente, insomma avevo preso, un bel giro dai, hai preso un bel giro, un bel giro, che produttore di... Sì, sì, poi è stato tutto un passo a parole, un passo a parole, e ho allenato un po' di gente, quel livello lì, un anno, cosa è stato, non ne chiamano un po', un anno, vengo a sapere, c'era la famosa, l'isola dei famosi, ma mi ha affascinato, perché io quando ho smesso di fare il pugilato, ero ingrassato, lievitato, e ho visto che quando facevo, l'isola del famo, dimagrino, diciamo che da dove arrivi tu, il mangiare è protagonista, esatto, e allora, chi ha fatto l'isola del famo, diveniva bello, magro, dei sicilini, ha detto io, quasi quasi mi propongo per l'isola del famo, questa è come una dieta praticamente, esatto, quella mia è stata quasi per una dieta, e mi propongo per fare l'isola del famo, visto che chiamavano tutti, gli anni, chiamavano un pugil, il primo è stato Patrizio Oliva, quando è andato Patrizio Oliva, io conoscevo il regista, che faceva l'isola del famo, e mi diceva, cazzo, la posso fare anch'io, ho detto, vediamo, magari lo proponiamo, se può essere interessante, adesso ne è, l'ha fatto Patrizio Oliva, è stato scartato su, dopo il secondo anno, non c'è stato un pugile, però mettevano sempre un pugile, non c'è stato, quel terzo anno poi, hanno preso Fragomeni, Giacomo Fragomeni, a prendere, a fare, a fare l'isola del famo, che l'ha vinto, ha fatto piangere l'Italia, per la disperazione, e l'ha vinto lui, lui l'ha vinto, esatto, e allora mi sono proposto anch'io di farla, e allora il, il regista, che era anche un mio conoscente, un caro amico anche, disse, guarda, quando io mi sono proposto per fare l'isola, mi avevano detto, da Kito, prima avevano detto, sì, potrebbe essere interessante, tu, insomma, nel pugilato anche tu, sei molto conosciuto, poi nell'ambienza, sei molto conosciuto, hai dato del tuo, secondo me si può fare, quando mi hanno proposto, quell'anno lì, dalla vittoria di Fragomeni, l'anno dopo, non hanno messo il pugile, perché, hanno detto, non che mi hanno detto, ma ha detto lui, se ti metto quest'anno qua, faranno di tutto per sbatterti fuori, perché, a quanto pare i pugili, è uno che va, aspettiamo quest'anno, piace alle persone, aspettiamo quest'anno, e ti inserisco l'anno prossimo, ti proponiamo, e vediamo, e così è stato, l'anno dopo, mi hanno proposto, però, prima di fare l'isola famosa, c'era, saranno isolani, mi ricordo, l'eliminatorio avevi fatto tu, no, l'eliminatorio, c'era Saranno isolani, era un reality, per accedere a fare l'isola del famoso, non lo ricordo, e Saranno isolani, quando ho fatto Saranno isolani, l'ho vinto, sì, e ho acceso a fare l'isola del famoso, una ragazza è arrivato in finale, eravamo io, un ragazzo, uno si chiamava Valeria, un'altra ragazza, si chiamava Dejaniera, una strega, ah sì, con la mezza matta, esatto, una napolotana, una napolotana, che mi stava furando di parte, e poi hanno provato a reintegrarla, durante l'isola, o sbaglio? no, perché lei è andato, ha andato a dire, delle cose su di me, che non erano vero, che non erano vero, per creare quell'atmosfera lì, che poi in realtà non l'hanno prende, e allora, che se lei veniva sull'isola, usava come esca, per acchiappare i... va bene, comunque, quando abbiamo fatto Saranni isolani, che ho vinto, e abbiamo vinto io, Dejaniera, io ho vinto i reali, sei stato il più votato, il più votato, poi la seconda era Dejaniera, e terza un certo Valeri, che faceva del teatro, e queste tre persone, dovevano accedere, andare all'isola famosa, e poi lì, dovevano fare, una specie di eliminazione, cioè una specie di... delle prove? no, delle prove, chi veniva votato, più dei tre, dei tre, entrava ufficiale, ufficiale a fare l'isola, era ufficialmente, l'isola famosa, e ho vinto io, anche quella volta lì, con quei due, lei hanno scartato, un sacco di parolacce, ma ha detto... io ti ho votato, esatto, ho vinto io, e lì è iniziata la mia carriera, a fare i soldi, per amore. ti ha preso i parolacce? eh? ti ha preso i parolacce, ma mi ha andato a fare in gomma, perché lei pensava di vincere lei, in realtà la gente italiana, ha preferito che lo facessi io. allora, io ricordo di quell'esperienza, che Franco si fece subito riconoscere, per la sua genuinità, nel senso, in un mondo di, magari c'erano ex attori, c'erano celebrità, c'erano... tutti c'erano, ma io... i tipi di VIP, e Franco era quello un po' più... meno preparato... era quello che non recitava. Non recitava, bravo, io volevo arrivare a quello, quindi non preparato... Quindi il personaggio senza maschere... Era quello che era vero, lui era vero, così com'è a 360 gradi, perché io... Sono piaciuto, per la mia... Poi è nato una certa... non a comicità, perché io non sono né un attore, né un comico, è nato con questo grande attore, teatrale, grande attore, grande personale del mondo dell'intervista, che si chiamava Gaspere. Chi si ricorda Zuzure Gaspere? Nino Formicola era... E ha fatto lì su quella... Cosa è successo? In Italia avevano uno spinto, stai su Frangotelli, perché io sulla geografia faceva schifo, intanto il mio taglianesco poi, era un po'... Non so come lo definivano così. Grezzo? Colorito. Colorito. Colorito mi piace. E allora, lì, sono piaciuto tanto, e lui cosa ha fatto? Da uomo geniale, veniva, cercando di mettermi in difficoltà, e ci riuscivo, perché non sapevo niente. Non sapevo niente, c'è una... Ti faccio una fase famosa, famosa che è stata, che è quella lì, la più banale di tutti, che è stata quella che quando... Noi sai che soffrivamo la fame, non mangiavamo, adesso si... Allora, cosa è successo? Un giorno, viene da me, con la sua genuità, la sua fenomenità, non so come dirti, perché lui era un genio su quelle cose lì. Poi in Italia avevo un programma che, mentre, quando non c'ero io, facevano la fame, quando ci sono io, hanno lavorato anche loro, perché la giarappas, che sono quelli lì, che ci hanno... Tu eri un personaggio di punta per loro. Quando sono uscito, mi hanno ringraziato, ho fatto mangiare, cioè ho fatto lavorare anche loro. Mi ricordo che nelle clip, su una clip di tre minuti della gialappa, due minuti e mezzo era lui. Un personaggio per cazzo, era il personaggio per cazzo. Allora che è successo? Nino, vengo là, stavo lì combattendo col fuoco, per accendere il fuoco, e là mi fa, ma tu da ragazzino, cosa... cos'era il tuo ideale? Non so, amavi il calcio? Lì si chiamava il calcio, ho detto io. Quando io ero ragazzino, ho detto io, facevamo anche la raccolta delle figurine, sanalbum delle figurine, mettevo sopra. Lui là mi viene e mi fa, sì, panini. Cazzo panini, che c'è andato il panino con le figurine? Io non sapevo che le figurine chiamavano i panini. Sì. E fa lui, panini, ancora sti cazzo di panini, lo so che ci abbiamo fan, ma se tu continui ancora a parlare dei panini, qui ci venivano la famicina. E fa lui, si chiamavano i panini, ma che cazzo dici? Le figurine si chiamavano i panini, e lì è nata una storia. E' nato uno sketch infinito. Poi quando mi è venuto lì, ero non mezzo ingazzato, stavo lì che stavo combattendo per una cosa, mi viene e va, secondo te, tu conosci i 420? Faccio io, i 420, che cazzo sono i 420? Faccio io, nord, sud, est e ovest. Secondo te, dov'è ovest? E che cazzo ne so? Lui quindi era la tua spalla perfetta, cioè lui giocava sulla tua, come dicevamo prima, ignoranza, che è semplicemente, a volte si usa come parola cattiva, ignoranza, è legata al fatto di una persona che magari non ha avuto le possibilità di... giocava sul fatto che io non ero istruito in tante cose, tipo nella geografia, soprattutto, nella storia, lui era molto bravo, io no, poi non ho detto niente, io... E certo, è una questione di possibilità, io ho fatto le scuole alte, ho fatto le scuole alte, io sono arrivato fino al quarto, quinto piano, e allora un giorno mi viene e mi fa, ma tu conosci dove... i quattro venti? Faccio io, io non so neanche che sistemano questi quattro venti, c'è il venti, c'è il venti, il venti arriva da una parte, arriva dall'altra, c'è il sole, basta, discorso, poi faceva altre cose, e io a lui avevo chiesto se mi faceva, mi dava lezioni di recitazione, ogni tanto abbiamo, siamo partiti con la Divina Commedia, essere e non essere, è questo il problema, e lui che era molto bravo, qual'era Shakespeare comunque? Chi era? Qual'era Shakespeare? Ho appena detto che non fa un cazzo di queste cose qua, fantastico, Shakespeare e Dante comunque le epoche sono le stesse, l'ha anticipato però, l'ha anticipato, l'ha anticipato, e quindi poi è nato questo sketch, poi la gente... E' nato diciamo, diciamo, l'anno che l'Isola dei famosi è andato più forte, è stato quell'anno lì, quando è nato la coppia Nino Formichel e Franco Terlizzi, che è nato, per puro caso è nato questa coppia qui, che dove noi abbiamo, abbiamo, cosa dire, un programma bello come l'Isola, l'abbiamo decorato di più, capito? Sì, sì, era sicuramente molto divertente, io mi ricordo proprio che la gente... È stato uno degli anni più forti dell'Isola, la gente, poi vabbè, noi lo seguivamo tanto, anche perché ci conoscevamo, noi col morale a terra, eravamo in Palapas, Alessia e Marcuse, non lo dimenticherò mai, quanto ci ha dato, ci ha dato la brutta notizia, ragazzo, abbiamo aumentato l'Isola di tre settimane, ci volevamo ammazzare, ci volevamo ammazzare, lì condavamo, è stata, ragazzi, non vendiamo l'Isola di tre settimane, ci volevamo ammazzare, suicidare. Quanti giorni hai fatto tutto là, Franco? Ho fatto quasi tre mesi, poi non sono stato bene. semifinale? No. No, sono uscito sei giorni prima. Sei giorni prima. Poi tre mesi da solo? No, no, ragazzi, poi sdoganiamo anche quello che dicevamo prima, che poi la gente pensa che è tutto legato a una roba di finzione, magari il gente dice, ma questi poi quando sui telecamere vanno dietro a mangiare. Sì, magari. io e noi lo facciamo da poco. Magari mi facevo le vacanze, me ne festavo due anni lì. Franco è tornato, io mi ricordo tornato, è riconoscibile, è rimagro come un chiodo. 30 kg per. Non è stato, abbronzato nero come Amauris, eri con il tuo grande amico. A proposito di Amauris, se non ricordo male, ci fu un piccolo confronto. Ah, una fana, è durato un quarto d'ora, sì, ci siamo un po' sfidati, diciamo. Eravamo due sportivi combattenti, e allora a un certo punto ci siamo, e c'è stata una, un'invergenza, come si dice? Una divergenza. Una divergenza, un'incompressione, esatto, la parola giusta, perché abbiamo fatto, abbiamo fatto l'isola sempre insieme, eravamo una coppia quasi fissa, e tu, che adesso ancora tutto, ora siamo non dei ottimi amici di più, però c'è stato un attimo dove, in realtà, ci siamo quasi sfidati, però non è successo niente. Anche perché, se succedeva, fratello, quel ti suonavi, te lo dico, due metri e mezzo di Cristiano, eh? Beh, eravamo agli sgoccioli, era, anche lui era provato per la fame, aveva perso muscolature e tutto, comunque eravamo due ex sportivi, no, lui era ancora attuale, due sportivi che abbiamo, io ho fatto uno sport individuale, di contatto, sì, di contatto, e lui invece ha fatto uno sport di gruppo, diciamo, ma io non mi riconosco più. Tu dici, fratello, che te la potevi giocare? Sì, alla grande, penso proprio di sì. Non lo sapremo mai, questo non lo sapremo mai, allora, ragazzi, noi concludiamo qui la nostra intervista a Franco, lo ringraziamo, è stato piacevole, come sempre. è stato carino, è una cosa molto simpatica, comunque. Ti ringraziamo, avremo anche qua potuto registrare per ore, perché anche Franco ha avuto una vita bella intensa, quindi ne avresti da raccontare di ogni. Speriamo di ricontarne ancora, eh? Oh, ne racconteremo ancora tanto. Comunque ci sarebbe da raccontarne tante, ma da mettere anche i sottotitoli, fratello, perché sennò qua qualcuno potrebbe dire che non parli bene l'italiano. Invece no, hai visto? È articolato e oggi ci ha stupito con della terminologia, vuol dire che il tuo amico Gaspare ha colto nel segno. Ha fatto un buon lavoro, ha fatto un buon lavoro. Ragazzi, noi vi ricordiamo che tutti lunedì siamo qui, per registrare nuovi contenuti di Chiacchiere da Barber, che è la rubrica Taglioporto. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, lasciate qui sotto dei commenti, mettete like anche alle nostre pagine di Instagram. Eh, vi voglio intanto. Sto direi. Dovremo mettere l'inspezione del nostro Franco questa settimana. Vi voglio intanto. Saremo intanto. Vi aspettiamo in tantissimi. Ragazzi, ci vediamo lunedì prossimo. Franco, grazie mille, davvero. E continuate a seguirci. Buona serata a tutti. Ciao ragazzi. Ciao.